A Teramo per il progetto di valorizzazione e riqualificazione dell'area del Teatro Romano, il CIS, il contratto interistituzionale di sviluppo ha stanziato 7.750.000 euro, immediatamente finanziati per la realizzazione complessiva e definitiva dell'opera, che vanno ad aggiungersi ai quattro già disponibili. Adesso dunque, dopo il primo intervento stralcio di demolizione dei due edifici Salvone e Adamoli, necessario per il proseguio dei lavori, si passerà all'oggiudicazione integrale dell'appalto e alla realizzazione dell'intervento in maniera organica e strutturata. Ci abbiamo puntato, lo avevamo chiesto anche al Presidente Conte, lo abbiamo ottenuto e poi grazie al lavoro del Commissario Legnini con il Ministro Carfagna si è arrivati alla sottoscrizione di questo contratto, nell'ambito del quale già subito, quindi con il primo finanziamento, abbiamo circa gli 8 milioni aggiuntivi che ci consentono di completare il finanziamento integrale del Teatro Romano. In soli tre anni abbiamo fatto quello che questa città attende, la nostra città attende da decenni. Abbiamo approvato il progetto preliminare, il progetto definitivo, abbiamo avviato la procedura per la demolizione dei due palazzi che abbiamo acquisito e ora il finanziamento completo. Finalmente si potrà restituire integralmente l'opera alla nostra città, integrandola anche con il tessuto urbanistico. Partiremo subito, entro l'anno, con la demolizione e poi a questo punto si procederà ad un bando unico, ad un affidamento unico per l'intero progetto, quindi non più un primo o un secondo stralcio, in quanto c'è l'integrale copertura finanziaria. Il CIS è uno strumento molto importante. Sono stati ammessi anche altri due progetti del Comune di Termo importantissimi, quello del mercato coperto per 5 milioni di euro e il parco fluviale per circa 8 milioni di euro, che non entrano in questo primo blocco perché abbiamo fino adesso in questa prima fase solo 16 milioni di euro complessivi, ma che comunque saranno posti in programmazione. Ecco perché sul CIS dobbiamo spingere. Rilevando però una cosa, ieri lo abbiamo detto anche al Ministro Carfagna, dobbiamo assolutamente uscire dallo schema del 10%. Nel riparto delle risorse all'interno del cratere abruzzese si continua ad applicare in favore della Regione Abruzzo solo il 10% delle risorse disponibili. In realtà il livello dei danni è decisamente superiore in rapporto anche alle altre Regioni, quindi questa percentuale deve essere adeguata. In questo momento, perché abbiamo il PNRR con 1 miliardo e 700 mila euro da destinare, quindi abbiamo la necessità di proseguire in questa programmazione, anche col PNRR, ma avendo diritto alle risorse che ci spettano, perché abbiamo una situazione che deve essere riequilibrata. Un sogno, quello del recupero del Teatro Romano, su cui tanti si sono impegnati a fare annunci, adesso è una concreta, effettiva realtà.